Non mi aspetto altre defezioni nella maggioranza, questo il secco commento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo al Palazzo del Consiglio Europeo a Bruxelles per la seconda giornata del vertice UE, dopo gli ultimi cambi di casacca, tre del Movimento 5 Stelle passati alla Lega e accolti a braccia aperte da Matteo Salvini. Chi vuole lavorare ha la possibilità di farlo con noi, sino al 2023, quindi dico a tutti i parlamentari, anche a quelli, delle volte può capitare che qualcuno si senta più trascurato. Attenzione, noi siamo solo all'inizio dell'opera, siamo poco più di due mesi, abbiamo un arco di tempo importante, abbiamo importanti riforme da offrire al Paese, chi vuole lavorare per migliorare il Paese lo fa adesso, qui con noi, grazie. In un'intervista alla stampa il Premier aveva già ribadito lo stesso concetto attaccando direttamente l'ex Vice Premier Salvini in merito al passaggio del senatore Ugo Grassi con il carroccio. Gli auguro di avere più fortuna di me, ha detto Conte, io ci ho lavorato con Salvini e non è che abbia ottenuto grandi risultati. Ammonendo poi i delusi del Movimento, chi scommette su Salvini deve mettere in conto che dovrà aspettare molto di più per dare il proprio contributo, con questo governo invece può già lavorare. Ancora più duro era stato Luigi Di Maio che in un messaggio aveva detto ai suoi se uno non è d'accordo con la linea politica ci sta, però si dimette, Salvini ha aperto il mercato delle vacche. Oltre alle uscite il Movimento deve fare i conti anche con il PD che in vista della verifica di governo di gennaio manda un messaggio chiaro attraverso il segretario Nicola Zingaretti. Siamo leali al Premier, ha sottolineato alla direzione nazionale, ma agli alleati chiediamo la stessa lealtà che dobbiamo ricostruire senza concessioni alla propaganda, perché anche la pazienza ha un limite, quello della sapportazione. E ha concluso, non sarò io a minacciare la crisi, però smettetela di scaricare sulla maggioranza crisi interna ai partiti. Noi sappiamo cos'è una coalizione, un'alleanza tra diversi, diversità che rispettiamo ma siamo alleati e non avversari.